La strada di Cormac McCarthy Negli ultimi cinque giorni non avevano mangiato nulla e dormito pochissimo, e in queste condizioni, alla periferia di una cittadina, si imbatterono in quella che a un tempo era stata una villa imponente, su un dosso sovrastante la strada. Il bambino lo teneva per mano. Sull'asfalto e sui campi e nei boschi esposti a sud la neve si era sciolta quasi del tutto. Restarono lì per un po'. Le buste di plastica che portavano, a modi galosce, si erano consumate da un pezzo e avevano i piedi freddi e zuppi. La villa si ergeva alta e maestosa, con una fila di colonne doriche bianche lungo la facciata. Un portico per le carrozze su un lato, un viale d'accesso coperto di ghiaia che serpeggiava in mezzo a un prato di erba morta. Le finestre erano stranamente intatte. Papà, cos'è questo posto? Shhh, fermiamoci qui ad ascoltare. Non si sentiva niente. Il vento che stormiva tra le felci morte al lato della strada, un cigoglio lontano, una porta o un'anta. Credo che dovremmo dare un'occhiata. Papà, non andiamoci lassù, stai tranquillo. Secondo me non ci dobbiamo andare. Tranquillo, diamo solo un'occhiata. Risalirono lentamente il viale, sulle rade chiazze di neve semidisciolta, nessuna traccia. Un'alta siepe di ligustro morto, un nido vecchio di chissà quanto incastrato nell'incrico oscuro dei rami. Si fermarono nel cortile a osservare la facciata. I mattoni artigianali erano stati ricavati dalla stessa terra su cui si ergeva la villa. La vernice scrostata penzolava in lunghe bave secche dalle colonne e dagli architravi incurvati, un lampadario appeso a una lunga catena. Salì le scale della veranda con il bambino aggrappato a sé. Una delle finestre era socchiusa, e dall'apertura usciva uno spago che tagliava la veranda e scompariva nell'erba. L'uomo prese il bambino per mano e attraversarono la veranda. Un tempo gli schiavi della casa avevano calpestato quelle assi con cibo e bevande su vassoi d'agento. Si avvicinarono alla finestra e l'uomo guardò all'interno. Papà, e se c'è qualcuno? Non c'è nessuno qui. È meglio che andiamo via, papà. Dobbiamo trovare qualcosa da mangiare, non abbiamo scelta. Magari troviamo qualcosa da qualche altra parte. Andrà tutto bene, muoviamoci. Si sfilò la pistola alla cintura e provò ad aprire la porta, che ruotò lentamente sui grossi cardini di ottone. Rimasero in ascolto. Poi entrarono in un ampio vestibolo, con una scacchiera di piastrelle di marmo bianca e nere sul pavimento, una larga scalinata che portava al piano di sopra, raffinata tappezzeria Morris alle pareti, cascante e gonfia di umidità. L'intonaco del soffitto era dissennato, di grosse bolle panciute, e la moda natura, dentellata in cima alle pareti, ormai gialla, sporgeva in fuori, tutta ricurva. Sulla sinistra, oltre una porta, si intravedeva una grande credenza di noce, in quella che doveva essere stata la salda pranzo. Le ante e i cassetti erano spariti, ma il resto del mobile era troppo massiccio per farci legna d'artere. Rimasero sulla soglia. In un angolo della stanza c'era un enorme mucchio di vestiti, abiti e scarpe, cinture, cappotti, coperte e vecchi sacchi a pelo. In seguito, ci sarebbe stato tutto il tempo per pensarci su. Il bambino era appeso alla sua mano, terrorizzato. Attraversarono l'ingresso fino alla stanza, sull'altro lato, entrarono e si fermarono. Una grande sala con i soffitti alti, il doppio delle porte. Un caminetto con i mattoni grezzi a nudo, nei punti in cui la mensole e la cornice erano state staccate per alimentarci il fuoco. A terra, davanti al focolare, erano disposti materassi e coperte. «Papà!» sussurrò il bambino. «Shh!» fece lui. Le ceneri erano fredde, lì intorno alcune pentole annerite. L'uomo si accovacciò sui talloni, ne raccolse una, l'annusò e la rimise dov'era. Si alzò e guardò fuori dalla finestra. Erba grigia calpestata, neve grigia. Lo spago che entrava dalla finestra era legato a una campana di ottone, e la campana era attaccata a una rozza mascherina di legno, inchiodata alla cornice della finestra. Sempre tenendosi per mano, percorsero un corridoietto di servizio che portava alla cucina. Montagne di rifiuti ovunque, un lavandino incrostato di ruggine, tanfo di muffa e di escrementi. Passarono nella stanzetta adiecente, forse una dispensa. Sul pavimento della stanza c'era una porta, o meglio una botola, chiusa con un grosso lucchetto fatto di piastre d'acciaio e impilate l'una sull'altra. L'uomo rimase a guardarlo. Papà, disse il bambino, papà adesso è meglio che andiamo. Se questa è chiusa ci sarà un motivo. Il bambino gli strattonò la mano, stava per mettersi a piangere. Papà, disse, dobbiamo mangiare. Non ho fame papà, davvero. Dobbiamo trovare un piede di porco o qualcosa del genere. Uscì dalla porta sul retro con il bambino che ancora gli stava attaccato, si ficcò la pistola alla cintura e diede un'occhiata in giro. C'era un vialetto di mattoni e la sagoma ritorta e rigida di quella che un tempo era stata una siebe di posso. Nel cortile c'era un vecchio erpice di ferro appoggiato sul pile di mattoni, fra i cui denti qualcuno aveva incastrato un calderone di ferro battuto da centocinquanta litri, di quelli che un tempo si usavano per sciogliere il grasso di maiale. Sotto c'erano le ceneri di un fuoco e qualche pezzo di legno anerito, poco più in là, un carretto con le ruote di gomma. Tutte queste cose l'uomo le vide e non le vide. Dall'altro capo del cortile c'erano un vecchio affumicatoio di legno e un capanno per gli attrezzi. Si diresse da quella parte, trascinandosi il bambino quasi di peso e frugò in mezzo agli attrezzi dentro un barile sotto il tetto del capanno. Tirò fuori una vanga e se la soppesò fra le mani. Andiamo, disse. Ritornati in casa, l'uomo cominciò a sferare colpi al legno tutto intorno alla cerniera della botola finché non riuscì a infilarla la lama sotto la staffa della serratura e a forzarla. Era imbullonata al legno e il pezzo venne via tutto insieme, compreso il lucchetto. Battendoci sopra col piede, l'uomo fece scivolare la lama della vanga dell'interstizio fra le assi, si fermò e tirò fuori l'accendino. Poi salì sul codolo della vanga e forzò la botola, si chinò e afferrò lo sportello con le mani. Papà, sussurrò il bambino. L'uomo si interruppe. Senti, disse. Devi smetterla. Stiamo morendo di fame, lo capisci? Poi sollevò lo sportello della botola, lo spalancò e lo appoggiò sul pavimento. Tu aspetta qui, disse. Vengo con te. Pensavo che avessi paura. Infatti ho paura. Ok. Vienimi dietro e stammi vicino. Cominciò a scendere gli scalini di legno grezzo. Tino la testa, poi accese l'accendino e protese la fiammella verso il buio come un'offerta. Freddo e umidità. Un puzzo inumano. Il bambino gli si aggrappava al giaccone. Intravedeva una parete di pietra. Un pavimento di argilla. Un vecchio materasso macchiato di scuro. Si chinò. Scese un altro gradino e illuminò lo spazio davanti a sé. Rannicchiate contro la parete opposta c'erano delle persone nude, maschi e femmine, che cercavano di nascondersi, riparandosi il viso con le mani. Sul materasso era steso un individuo con le gambe ambutate, fino ai fianchi e i moncherini anneriti e bruciati. L'odore era micidiale. Gesù, sussurrò l'uomo. Uno dopo l'altro i prigionieri si voltarono, battendo le palpebre per quel barlume di luce. Aiuto, mormorarono. La prego, ci aiuti. Cristo, disse lui. Oh, Cristo. Si voltò e afferrò il bambino. Svelto, disse. Svelto. L'accendino gli era caduto. Non c'era tempo per cercarlo. Spinse il bambino su per le scale. Aiuto, imploravano quelli. Svelto. Ai piedi delle scale apparve un volto barbuto. Ti prego, gridò battendo le palpebre. Ti prego. Svelto. Svelto, per l'amor di Dio. Spinse il bambino fuori della botola facendolo cadere a terra. Uscì. Afferrò lo sportello. Lo richiuse brutalmente e si voltò per raccogliere il bambino, che però si era già rialzato e stava facendo il suo solito balletto del terrore. Per l'amor di Dio, muoviti, gli sibilò. Ma il bambino stava puntando il dito verso la finestra e quando l'uomo guardò fuori si sentì gelare il sangue. Quattro individui barbuti e due donne stavano attraversando il prato diretti verso la casa. Afferrò la mano del bambino. Cristo, disse, corri, corri. Attraversarono di corsa la casa, fino alla porta d'ingresso, e si precipitarono giù dalle scale. A metà del viale l'uomo trascinò il bambino nel prato. Si guardò alle spalle. Erano parzialmente nascosti dai resti del ligustro, ma sapeva che avevano a disposizione solo qualche minuto, forse neanche quello. In fondo al prato si infilarono in un boschetto di canne morte, bruciarono sulla strada, sbucarono sulla strada e tagliarono per il bosco dall'altra parte. Strinse più forte il polso del bambino. Corri, disse, dobbiamo correre. Guardò verso la casa, ma non riusciva a vedere nulla. Se quelli fossero scesi lungo il viale, li avrebbero visti scappare in mezzo agli alberi. Questo è il momento, questo è il momento. Si buttò a terra e tirò se il bambino, ssh, gli disse, ssh, ci ammazzeranno papà, ssh. Rimassero stesi in mezzo alle foglie e alla cenere, con il cuore che batteva l'impazzata. Lui stava per cominciare a tossire. Avrebbe voluto mettersi la mano davanti alla bocca, ma una gliela stringeva il bambino e non l'avrebbe mollata. Nell'altra teneva la pistola. Doveva concentrarsi per trattenere la tosse e al tempo stesso cercava di tendere l'orecchio. Ruotò il mento tra le foglie, tentando di vedere qualcosa. Sta giù con la testa, sussurrò. Stanno arrivando? No. Strisciarono lentamente verso quello che sembrava un avvallamento. L'uomo rimase in ascolto stringendo a sé il bambino. Li sentiva parlare, sulla strada, la voce di una donna. Poi li sentì passare sulle foglie secche. Afferrò la mano del bambino e ci ficcò la pistola. Prendila, sussurrò, prendila. Il bambino era terrorizzato. Lui lo abbracciò e lo denne stretto. Era così magro. Non aver paura, gli disse. Se ti trovano lo devi fare. Hai capito? Shhh! Non piangere, mi ascolti? Lo sai come si fa. Te la metti in bocca, la punti su, veloce e deciso. Hai capito? Smettila di piangere, hai capito? Penso di sì. No, hai capito? Sì. Di di sì, papà, ho capito. Sì, papà, ho capito. Lui abbassò gli occhi e lo guardò. Vide solo terrore. Gli tolse la pistola. No che non hai capito, disse. Non so cosa fare, papà. Non so cosa fare. Tu dove sarai? Stai tranquillo. Non so cosa fare. Shhh! Io sono qui. Non ti lascio. Me lo prometti? Sì, te lo prometto. Volevo scappare per cercare di distrarli, ma non ti posso lasciare. Papà! Shhh! Sta giù. Ho tanta paura. Shhh! Rimase da terra in ascolto. Ce la farai? Quando sarà il momento? Quando sarà il momento non ci sarà tempo. E questo è il momento. Vestemmi a Dio e muori. E se si inceppa? Non puoi incepparsi. Ma se si inceppa? Saresti capace di fracassare quel cranio adorato con un sasso? C'è un essere simile dentro di te? Di cui tu non sai nulla? Ci può essere? Tienilo stretto. Ecco, così. L'anima è un soffio. Abbraccialo. Baccialo. Svelto. Aspettò. Con la pistola, con la piccola rivoltella, nichelata in mano. Gli veniva da tossire. Si concentrò con tutto se stesso per trattenersi. Cercò di ascoltare, ma non sentiva nulla. Non ti lascio, sussurrò. Non ti lascerò mai, capito? Rimase stesso sulle foglie, abbracciato al bambino tremante, con la rivoltella stretta in mano, per l'intera durata di quel lungo crepuscolo, e anche quando fece buio. Notte fredda e senza stelle. Grazie a Dio. Cominciò a credere che avevano qualche chance. Dobbiamo solo aspettare, sussurrò. Un freddo. Cercava di pensare, ma la mente non lo seguiva. Era così debole. Aveva parlato di scappare. Non era in grado di scappare. Quando l'oscurità fu assoluta, aprì lo zaino e tirò fuori le coperte, le stelle sopra il bambino, e di lì a poco il bambino si addormentò. Durante la notte sentì delle urla agghiaccianti che provenivano dalla casa, e cercò di tappare le orecchie al bambino, e dopo un po' le urla cessarono. Rimase straiato lì, in ascolto, mentre attraversavano il canneto. Poco prima di sbucare sulla strada aveva visto un riparo, una specie di casetta da bambini. Capì che era dove si appostavano a sorvegliare la strada. Aspettavano stesi a terra, e quando vedevano qualcuno facevano suonare la campana dentro la casa per chiamare i compagni. Si assopì e si risvegliò. Cos'è questo rumore? Passi sulle foglie. No, solo il vento. Niente. Si alzò a sedere e guardò verso la casa, ma vide soltanto buio. Svegliò il bambino. Forza, disse, dobbiamo andare. Il bambino non rispose, ma lui capì che era sveglio. Gli tolse le coperte e riassicurò allo zaino. Forza, sussurrò. Si misero in cammino, nel bosco buio. La luna era da qualche parte sopra la colta di cenere, e riuscivano appena a intravedere gli alberi. Barcollavano come ubriachi. Se ci trovano ci ammazzano, vero papà? Shhh, basta parlare. Vero papà? Shhh, sì, sì, ci ammazzano. Non aveva idea di dove stessero andando, e la sua paura era che finissero per girare in tondo e tornare verso la casa. Cercò di ricordarsi se ne aveva sentito parlare, o se era solo una leggenda. Da che parte tende a deviare chi si perde? Forse dipende dall'emisfero in cui ci si trova, o dall'essere destri o mancini. Alla fine, se lo levò la testa. Il pensiero che ci potesse essere qualcosa da correggere. La sua testa lo stava tradendo. Fantasmi svaniti da millenni si destavano lentamente dal sonno. Ecco, prova a correggere questo. Il bambino non si reggeva più in piedi. Chiese di essere preso in braccio, incespicando e biascicando le parole, e appena lo tirò su, si addormentò sulla sua spalla, ma lui sapeva che non sarebbe riuscito a portarlo a lungo. Si svegliò nel buio del bosco, in mezzo alle foglie, scosso dai brividi. Si mise a sedere e cercò il bambino a tastoni. Gli posò la mano sulle costole magre. Calore e movimento. Il cuore batteva.